Musica Musica Ospedale di Polla sul burco della regione Campania Annunciata la disattivazione dei punti nascita di Polla e Sapri Atena Lucana, quattro persone arrestate per furto aggravato e detenzione di droga Montesano, la stazione elettrica Terna pronta a derocalizzare Buon abitacolo, consegnato il premio Giovani Imprenditore vince il territorio per le grandi idee e gli importanti progetti Sala Consilina, l'ordine degli avvocati di Lago Negro domani per l'incontro su violenza domestica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News Apriamo con la sanità, con la questione legata alla chiusura dei punti nascita perché dal primo gennaio 2019 saranno disattivati i punti nascita presso gli ospedali di Polla e Sapri lo si legge dal burco della regione Campania e parte la mobilitazione dal Golfo di Policastro e dal Vallo di Diano domani un nuovo incontro, vediamo Il Comitato percorso nascita nazionale esprime parere sfavorevole alla deroga per i punti nascita di Piedimonte Matese, Polla e Sapri e la regione Campania prende atto della decisione e dispone la disattivazione degli stessi punti nascita con decorrenza dal primo gennaio 2019 queste le parole del decreto del commissario ad acta numero 87 del 5 novembre 2018 pubblicato sul burco della regione che chiude i punti nascita del Golfo di Policastro e Vallo di Diano due intere aree lasciate scoperte che potrebbero decidere di puntare su servizi fuori regione piuttosto che rivolgersi in Campania con un deciso aumento della migrazione sanitaria insomma nel Vallo di Diano e Golfo di Policastro non si deve nascere rendendo inutile il discorso di lotta allo spopolamento la chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri è anche abbandono di due territori che hanno dovuto subire decisioni dall'alto poche lievi energie sono state consumate per il tribunale e mentre si assiste alla fine del carcere bisogna fare i conti anche con le chiusure dei due punti nascita un flebile segnale di lotta esiste ancora è previsto per domani un incontro per discutere proprio della questione a Sapri il primo cittadino Antonio Gentile attacca il governo Conte per la decisione dei membri del Comitato per Corso Nascita Nazionale nominati nel 2014 dall'alora Ministro Beatrice Lorenzin annunciando che si continuerà a lottare fino alla fine al fianco della Regione per ottenere la deroga come sede disagiata e la Regione sarà presente domani all'incontro promosso dal Sindaco Gentile in qualità di Sindaco del Comune Capofila del Distretto 71 in programma alle ore 15 presso l'auditorium comunale all'incontro che prevede la partecipazione anche del Sindaco di Malatea sarà presente anche il consigliere regionale Franco Picarone delegato del Governatore De Luca nel Vallo di Diano si punta ad evidenziare il ruolo e i risultati del punto nascita di Polla negli ultimi anni l'ospedale nel 2018 fa registrare 280 nascite negli ultimi tre anni ai numeri che superano i 300 nati si aggiunge un'intensissima attività ostetrica ginecologica con gran parte delle prestazioni ambulatoriali che riguardano stetricia bisognerebbe inoltre spiegare meglio a chi assume le decisioni che nel Vallo di Diano e nel Golfo di Policastro per le future mamme può essere più agevole raggiungere l'ospedale di Rago Negro piuttosto che Vallo della Lucania o Salerno si tratta quindi di un provvedimento che contrariamente a quanto da tempo annunciato dal Presidente della Regione Campania andrà sicuramente a favorire la migrazione sanitaria che non porterà ad un risparmio ma ad un ulteriore aggravio della spesa sanitaria la lotta comunque continua ma è necessario intervenire in maniera decisa le deroghe potrebbero non essere sempre sufficienti intanto sulla pagina Facebook e il profilo Twitter della Regione Campania arriva l'annuncio di una prossima ripresentazione della richiesta di deroga per i punti nascita che al momento risultano esclusi nel ripercorrere i momenti salienti che hanno portato l'ente alla presa d'atto della mancata deroga per i punti nascita dei presidi ospedalieri di Piedimonte Matese, Polla e Sapri unici a non aver ricevuto il parere favorevole dal Comitato percorso nascite nazionale per il mantenimento dei punti nascita annuncia che nelle prossime settimane riproporrà la richiesta di ammissione alla deroga proprio per i punti nascita al momento esclusi e andiamo avanti e stiamo in tema perché sulla chiusura del punto nascita di Polla in particolare interviene il Presidente della Comunità Montana a Vallo di Diano Raffaele Accetta in qualità anche di ente capofila per la strategia delle aree interne nel corso di questi anni, scrive Accetta, è stato fatto un grande sforzo di programmazione e pianificazione per rispondere ai requisiti che la strategia nazionale delle aree interne aveva varato alla fine di frenare lo spopolamento mi domando, continua Accetta, come si possa chiedere ad un territorio di programmare interventi anche nel settore sociosanitario e poi sopprimere uno dei presidi più importanti dell'area che tocca la salute delle donne e il loro diritto ad essere curate e a partorire in tutta sicurezza è contraddittoria una politica del genere, continua duro Raffaele Accetta pertanto chiedo alla Regione Campania, al Ministero della Salute ai referenti nazionali e regionali della strategia delle aree interne di aprire immediatamente un tavolo tecnico per l'adozione della sospensione del provvedimento in virtù dell'essere il Vallo Didiano, area pilota per la strategia delle aree interne la richiesta avanzata dal Presidente Accetta sarà formalizzata con un documento unitario nell'ambito di una conferenza dei sindaci in cui sarà anche sottolineata l'importanza del punto nascita nell'ambito della strategia delle aree interne e andiamo avanti, cambiamo argomento lasciamo la sanità per occuparci ora di cronaca tre ragazze diciottenni sono state arrestate in flagranza di reato per furto aggravato all'interno del centro commerciale di Atena Lucana in serata a Sassano un giovane è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente vediamo quattro giovani arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina nella giornata di ieri in due diversi momenti i dettagli a Atena Lucana i carabinieri della stazione di Tegiano hanno arrestato in tarda serata in flagranza di reato tre ragazze diciottenni incensurate all'interno di un centro commerciale le giovani dopo aver prelevato alcuni capi di abbigliamento dagli espositori con la scusa di provarli hanno rimosso con un coltello a serramanico i dispositivi antitaccheggio occultando nelle proprie borse gli abiti scoperte sono state arrestate ed ora sono agli arresti domiciliari a Sassano invece i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 23enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giovane è stato sorpreso in possesso dai carabinieri di una dose di stupefacente e all'interno del proprio armadio della camera da letto occultava circa 70 grammi di marijuana anche per lui sono scattati gli arresti domiciliari continuiamo con la cronaca Giuseppe Marchesano il giovane originario di Buonabitacolo trovato morto nella sua casa di Montopoli in provincia di Pisa pare sia stato ucciso da un coetaneo secondo quanto riferito dagli inquirenti sembra che a condurre al giovane siano stati alcuni elementi quale l'acquisto recente di due pistole di calibro compatibile con quella usata per uccidere Giuseppe la presenza del pick up del ragazzo indagato nei pressi della casa della vittima il 27enne fermato pare però che abbia negato ogni addebito non è ancora stato definito il movente dell'omicidio secondo gli inquirenti alla base del gesto potrebbe esserci un'amicizia interrotta recentemente tutto però resta ancora da definire e andiamo avanti continuiamo con la cronaca ci spostiamo però a Casalbuono ancora un furto ai danni delle scuole di Casalbuono questa volta infatti i ladri hanno colpito l'istituto comprensivo del paese del sindaco Attilio Romano nel plesso scolastico di Via Roma che ospita le scuole elementari e medie ieri sera sono stati trafugati 5 pc portatili usati anche in questo caso come supporto alle lavagne LIM sul posto ai carabinieri della stazione di Buonabitacolo per i rilievi del caso non si arresta quindi l'ondata di furti dopo i recenti casi di Monte San Giacomo Sassano, San Pietro, Altanagro ora è stata la comunità di Casalbuono in particolare i piccoli studenti a subirne le conseguenze andiamo avanti 16 lavoratori bengalesi completamente nero e uno addirittura sprovvisto del permesso di soggiorno sono stati trovati dai finanzieri del comando provinciale di Salerno in uno stabilimento di oltre 1000 metri quadri in pieno centro ad Angri dove si confezionano abiti griffati gli operai che vi lavoravano erano 50 tutti originari del Bangladesh coordinati da un loro connazionale cambiamo argomento lasciamo la cronaca andiamo a Montesano torniamo sulla questione legata alla stazione elettrica Terna novità circa la costruzione della stazione a Montesano sulla Marcellana la multinazionale si dice pronta a delocalizzare la stazione in accordo con la comunità locale ma dalla maggioranza di nuovo a Montesano definiscono tale proposta frettolosa intempestiva ed inopportuna un solo giorno dall'udienza prevista domani presso il Tarlazio vediamo nuovo capitolo della lunga vicenda legata alla costruzione della stazione elettrica Terna a Montesano sulla Marcellana nelle scorse ore infatti c'è stata una piccola marcia indietro della multinazionale che attraverso alcuni funzionari si è detta pronta a delocalizzare la centrale ed aprire un tavolo tecnico con le parti interessate per trovare una soluzione condivisa Terna hanno dichiarato i funzionari accoglie le istanze e osservazioni della comunità locale e si rende disponibile a individuare una possibile nuova localizzazione della stazione che possa dare piena soddisfazione alle istanze del territorio una notizia che arriva dopo otto lunghi anni dove il comune copitato ai cittadini hanno dato battaglia per evitare la costruzione della centrale dove attualmente è ubicata una battaglia che si è trascinata e si trascina anche nelle aule dei palazzi di giustizia sulla notizia è intervenuto anche il gruppo consigliare di maggioranza Nuova Montesano che via social ha commentato pur prendendo atto che finalmente la società si è resa conto dell'inidonietà assoluta dell'attuale sito riteniamo la proposta stessa troppo frettolosa intempestiva e inopportuna a un solo giorno dall'udienza prevista domani presso il Tarrazio e che racchiude tutti i procedimenti che riguardano la nostra tesi sostenuta da sempre di carenza di via e di autorizzazione e che vede per la prima volta anche la presenza in giudizio dell'avvocatura regionale li difendiamo prosegue la nota un giorno dall'udienza la nostra posizione su cui abbiamo lavorato da lungo tempo giungendo all'accoglimento nei mesi scorsi dell'istanza istruttore da parte del giudice stesso senza pronuncia giudiziaria per vedere se quanto da noi sostenuto e documentalmente mostrato abbia ragion d'essere nessuna decisione definitiva aggiunge la nota può scostarsi da quanto finora coerentemente sostenuto siamo indisponibili tante e troppe volte etterna ha detto no oggi noi diciamo no ora più che mai c'è bisogno di rinnovata passione di fiducia verso le istituzioni verso la giustizia solida speranza che Montesano resti quello che è ascolteremo aggiungono da nuova Montesano la cittadinanza tutta ma senza tentennamenti verso Tesna ascolteremo tutti perché è giusto perché è una decisione di grande rilevanza e di interesse ma siamo certi che noi troveremo la sintesi perché quando si difende un paese nessuna ragione economico aziendale potrà mai essere superiore al desiderio di giustizia e di tutela del territorio crediamo conclude la nota ancora che la vera giustizia debba decidere se Montesano a prescindere dal sito dovrà pagare il prezzo di un'opera mai voluta torniamo sulla questione carcere l'avvocato Angelo Paladino presidente dell'unione giuristica cattolici italiani non si arrende alla chiusura della casa circondariale di sala consigline rende noto di aver ricevuto un riscontro dal sottosegretario onorevole Angelo Tofalo in risposta alla richiesta di incontro con il ministro Bonafede per la riapertura della casa circondariale sono in diretto contatto con il sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi che sentirò domani telefonicamente per il dossier in oggetto assicura l'onorevole Tofalo all'avvocato Paladino nei giorni scorsi con un'ammissiva l'avvocato Angelo Paladino si era rivolto direttamente ai parlamentari eletti che ricoprono ruoli all'interno del governo quindi al senatore Francesco Castiello all'onorevole Angelo Tofalo segretario al ministero della difesa al senatore Andrea Cioffi sottosegretario al ministero dello sviluppo economico nella sua veste di presidente dell'Unione Giuristica Attuali Italiani l'avvocato Paladino tra le altre cose aveva sottolineato ancora una volta l'importanza del carcere di Sala Consilina andiamo a Buonabitacolo dove ieri sera presso il centro sociale La Cupola si è tenuto l'incontro finale per la consegna del premio legato al progetto promosso dal forum dei giovani locali con la consegna appunto del premio giovane imprenditore uno solo a ricevere il premio ma a vincere sono stati davvero in tanti in particolare sono stati i partecipanti al concorso per la caparbietà per la forza la determinazione e l'amore per il territorio mostrato nelle loro attività ma anche i vincitori si sono rivelati i ragazzi di tutti i forum dei giovani che hanno aderito all'iniziativa che ha visto come forum capofile il forum di Sala Consilina che hanno dimostrato una grande capacità di collaborazione vediamo ieri a Buonabitacolo i forum dei giovani locali hanno premiato la miglior giovane impresa del territorio un progetto finanziato dalla regione Campania che oltre alla consegna del premio di 500 euro all'azienda vincitrice ha consentito di conoscere e apprezzare la forza e il coraggio di tanti giovani che possono insegnare tanto partendo dall'amore per il territorio a vincere il premio è stata l'azienda della mela proprietaria del marchio i sapori di Diano di Pietro Delia giovane di Teggiano che dopo la laurea e diversi anni trascorsi a Roma è tornato nel suo territorio mettendo al servizio della sua terra le sue conoscenze e riprendendo una delle più importanti tradizioni culinarie di Teggiano il peperone crusco ma il giovane Pietro Delia pur risultando vincitore è stato solo uno dei tanti protagonisti dell'interessante serata organizzata dai ragazzi dei forum di giovani di Sala Consilina Buonabitacolo Sanza Petina Teggiano Padula Montesano sulla Marcellana San Pietro Altanagro con capofile il forum dei giovani di Sala Consilina nel corso dell'incontro che si è svolto presso il centro sociale La Cupola di Buonabitacolo i ragazzi hanno avuto anche la premura di organizzare un piccolo rinfresco per festeggiare i partecipanti al concorso ed è stato possibile ascoltare e presentare tutte le proposte imprenditoriali che hanno partecipato al concorso e ripercorrere insieme i diversi incontri che hanno accompagnato il progetto Da quanto è stato raccontato dai partecipanti al concorso per la giuria composta da Mike Manzolillo presidente dell'associazione Giovani Dottori Commercialisti di Sala Consilina Valentino Di Brizzi presidente dell'associazione imprenditori Vallo di Diano e Cono De Paola coordinatore delle imprese del Vallo di Diano per Confindustria non deve essere stato un lavoro facile scegliere il vincitore Tante le idee imprenditoriali e tutte di grande interesse meritevoli di grande sostegno per il coraggio la forza e la determinazione con cui portano avanti i loro progetti coraggio e forza che fanno ben sperare per il futuro e che dovrebbero essere presi ad esempio per lo sviluppo del territorio come un grande esempio arrivato dai ragazzi dei forum che lontanissimi da logiche campanilistiche si sono riuniti insieme in spirito collaborativo per organizzare e lavorare ad un progetto di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze e ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri sera in occasione della consegna del premio Giovani Imprenditore alla presidente del forum dei giovani di Sala Consigna Rosaria Romanelli al presidente dell'associazione imprenditori Vallo Didiano Valentino Di Brizzi membro della giuria selezionatrice e al vincitore del premio Pietro Delia titolare dell'azienda La Mela e al vice sindaco di Buonabitacolo Enza Basile Un'opportunità per le imprese che hanno partecipato infatti si sono creati soprattutto contatti sia tra i giovani che tra le imprese stesse abbiamo dato l'opportunità appunto a questi ragazzi questi giovani imprenditori di rendere noto la loro attività e quindi di creare altri clienti altre collaborazioni e quindi diciamo che abbiamo realizzato una vera e propria rete anche continuando quella dei forum e speriamo di riproporlo appunto negli anni a seguire trovando comunque la possibilità di collaborare con i contatti che abbiamo creato come ad esempio quelli delle banche o dell'associazione giovani imprenditori del Vallo di Liano abbiamo dovuto pensare molto per dare il premio che era unico le iniziative erano tutte lodevoli tutto sullo stesso livello all'incirca e soprattutto si vedeva che c'è un grande senso di impresa in questi giovani che hanno proposto queste idee giovani imprenditori che vengono da un percorso universitario brillante e che hanno deciso di ritornare nel Vallo di Liano e come dire rispolverare quelle che erano delle idee antiche degne di essere prese in grossa considerazione ci fa piacere perché in un momento in cui si registra l'immigrazione delle nuove generazioni questi sono tornati un'iniziativa lodevole ed è bello che questo progetto venga rivisto anche l'anno prossimo e noi come associazione degli imprenditori abbiamo dato il nostro ok sperando di poter coinvolgere oltre alle imprese anche le banche perché no la politica e le amministrazioni locali del nostro territorio il premio è importantissimo ma per come è stato costruito è interessante come il lavoro che è stato fatto dal forum dei giovani sia proprio interessante per valorizzare le iniziative nel territorio ha fatto un lavoro itinerante nelle varie zone del Vallo di Diano per valorizzare ogni volta le singole imprese questo ci ha permesso di conoscerci questa sera tutti qui e ognuno di noi ha avuto modo di parlare della propria azienda è interessantissimo questo perché ognuno di noi ha la possibilità facendo la pubblicità diceva bene Valentino Di Brizzi durante il suo intervento facendo pubblicità della propria e dando visibilità la propria azienda ha anche la possibilità di conoscere le altre aziende con cui fare rete hanno presentato dei bellissimi progetti che al dire il vero non mi aspettavo la cosa che mi ha colpito tantissimo e credo che questo sia un buon inizio è la collaborazione cioè questa collaborazione fra i diversi forum e quindi fra questi diversi giovani che vogliono iniziare l'attività imprenditoriale io credo che sia veramente un buon punto di partenza Andiamo ora a Sant'Arsenio a gennaio grazie a Open Fiber inizieranno i lavori per la banda ultralarga Sant'Arsenio voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica permetterà ai gittadini di accedere alla rete con fibra ottica direttamente da casa propria grazie al superamento delle ultime formalità tra il comune e Open Fiber progetto nazionale di diffusione della fibra ottica e riduzione del digital divide ma ascoltiamo le parole del sindaco Pica Siamo particolarmente soddisfatti come amministrazione comunale di questo risultato tra l'altro era uno degli obiettivi prioritari del nostro programma oltre alla convenzione a suo tempo sottoscritta con la regione campana abbiamo intensificato e accelerato i contatti con i soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori pensiamo verosimilmente che con gli inizi del 2019 si darà il via ai lavori lavori che porteranno come fibra ottica per quanto riguarda i privati una disponibilità 3-400 mega mentre in più avranno gli uffici e i servizi pubblici e gli operatori privati l'incontro con la parte tecnica di Open Fiber è stato ripeto particolarmente operativo e quindi gli uffici amministrativi da un lato e l'ufficio tecnico dall'altro stanno predisponendo la documentazione che ci è stata richiesta il tutto dovrebbe presumibilmente essere pronto entro 30 giorni e quindi consentirci di rispettare la data del primo gennaio 2019 e questo risultato ci fa ben sperare anche per il raggiungimento degli altri obiettivi soprattutto per quanto riguarda la promozione turistica del nostro territorio e l'avvio appieno delle iniziative sul Serrone e sul Monte Carmelo e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco bentornati alla seconda parte del nostro TG sono stati presentati ieri i dati degli incidenti stradali in Campania nel 2017 sinistri in aumento rispetto al 2016 in totale sono circa 10.000 gli incidenti in cui hanno perso la vita 242 persone ma vediamo i dettagli nel prossimo servizio nel corso del seminario gli incidenti stradali in Campania 2017 svoltosi ieri a Napoli sono stati presentati i dati istast sui sinistri in regione con dati allarmanti che segnalano un notevole aumento dell'incidentalità il boom di morti per incidenti si registra in provincia di Salerno dove c'è un alto tasso di incidentalità nelle zone interessate da flussi turistici o movide del weekend come la costiera Amalfitana e il Cilento con la statale 18 tirrena inferiore definita strada killer tra i comuni a Salerno città i morti salgono del 250% in 12 mesi gli incidenti del 17,8% i feriti del 25,5% a battipaglie i deceduti aumentano del 400% gli incidenti del 16,6% e i feriti del 12,9% dati in aumento in tutta la provincia con sole eccezione di Agropoli dove gli incidenti calano del 13% e i feriti del 13,1% tuttavia anche qui si è registrato un morto insieme a Salerno la maglia nera per le vittime 7 va a Capaccio Pestum in totale in Campania nel 2017 si sono verificati 9.922 incidenti stradali in cui hanno perso la vita 242 persone altre 14.770 sono rimaste invece ferite rispetto al 2016 aumentano sia gli incidenti che il numero delle vittime della strada preoccupanti le cifre della provincia di Salerno l'anno scorso gli incidenti sono stati 2.492 più 3,1% e i decessi 54 più 11% mentre i ferimenti 3.918 più 3% l'indice di mortalità infine corrisponde a 2,2 in Campania e 2,4 in Italia 1,9 secondo l'ISTAT la prima causa dell'incidente resta la distrazione declinata nei fenomeni dell'elevata velocità dell'uso di alcol e dei telefonini domani 14 novembre si celebra la giornata mondiale del diabete istituita nel 1991 dall'organizzazione mondiale della sanità e dalla federazione internazionale contro il diabete il comune di Sala Consilina sensibile all'iniziativa ha deciso di partecipare a questa giornata di sensibilizzazione che ricorre ogni anno il 14 novembre in ricordo della nascita del fisiologo canadese Bentin che nel 1921 scoprì l'insulina consentendo così di rendere il diabete fino ad allora malattia mortale malattia controllabile al fine quindi di contribuire alla sensibilizzazione a stimolare l'opinione pubblica sulla corretta informazione in merito alla patologia l'amministrazione comunale guidata da Francesco Cavallone aderisce alla giornata promossa dalle comunità scientifiche quale segno tangibile della sua vicinanza ha deciso di illuminare di colore blu il castello di Sala Consilina a partire da domani 14 novembre fino al prossimo 18 novembre andiamo avanti restiamo a Sala Consilina dove domani pomeriggio si parlerà di violenza domestica in un incontro organizzato dall'ordine degli avvocati di Lago Negro nell'ambito di una serie di appuntamenti che si terranno in tutta la provincia di Salerno incentrati sui temi della violenza contro donne e minori e degli strumenti a loro tutela parte da Sala Consilina la serie di eventi informativi formativi e di sensibilizzazione sui temi della violenza contro donne e minori e degli strumenti a loro tutela titola il percorso delle persone e della famiglia tra riforme e prassi profili penali civili e psicoforensi e si terrà in tutta la provincia di Salerno saranno incontri di carattere multidisciplinare vedranno la partecipazione di vari esperti del settore tra cui avvocati magistrati docenti universitari medici psicologi psichiatri e sociologi il primo incontro organizzato dall'ordine degli avvocati di Lago Negro si terrà domani mercoledì 14 novembre presso l'aula magna dell'istituto comprensivo Giovanni Camera di Sala Consilina si parlerà di genitori e figli nella crisi dei rapporti familiari tutela delle vulnerabilità al centro dell'incontro dunque la violenza domestica con un approfondimento sulla recente normativa relativa alla tutela dei figli nei casi di femminicidio domani pomeriggio a partire dalle ore 16 dopo i saluti del presidente dell'ordine degli avvocati di Lago Negro l'avvocato Gerardo Cappelli interverranno il neopresidente del tribunale di Lago Negro il dottor Luigi Pentangelo il presidente del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Lago Negro l'avvocato Michela Patti il presidente della Camera Minorile di Torre Annunziata l'avvocato Rosita Saporito la professoressa Anna Germano dell'Università degli Studi di Salerno modererà l'incontro l'avvocato Anna Rita Crecca segretario del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Lago Negro è importantissimo ha dichiarato l'avvocato Patti parlare di un tema come quello delle discriminazioni e violenze su donne e minori che necessita del confronto continuo tra il mondo istituzionale e quello accademico gli operatori del diritto il personale medico e il terzo settore per trovare delle soluzioni condivise proprio per agire a livello concreto aggiunge l'avvocato Patti è stato implementato il Project for Vulnerable People di cui sono responsabile e che vede la partecipazione di partner esperti della materia e si basa sull'interdisciplinarietà e il lavoro di rete è fondamentale conclude far capire alle vittime che non sono sole e che esistono tutta una serie di strumenti legislativi che possono contribuire a tutelarle a Pestum torna dal 15 al 18 novembre la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico giunta alla 21esima edizione tanti gli appuntamenti tra cui anche la conversazione sul tema la scrittura narrativa per la promozione dei beni culturali con il giornalista Pietro Cusati e lo scrittore Emilio Sarli Tutto pronto per la 21esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a Pestum dal 15 al 18 novembre prossimo anche quest'anno un ricco calendario di appuntamenti per una manifestazione che è luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio occasione di incontro per gli addetti ai lavori gli operatori turistici culturali viaggiatori gli appassionati un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali oltre che da 12.000 visitatori 100 espositori di cui 20 paesi esteri circa 60 tra conferenze e incontri 300 relatori 120 operatori dell'offerta e 100 giornalisti accreditati tra gli appuntamenti in programma quest'anno presso il centro espositivo del Savoy Hotel si segnalano le celebrazioni per il ventesimo anniversario dell'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO delle aree archeologiche di Pestum e Troia il rinnovo del gemellaggio tra Pestum e Palmira la quarta edizione dell'International Archeological Discovery Award Khaled Al-Assad e il premium Pestum Archeologia Mario Napoli e diversi workshop tra gli appuntamenti di segnalare anche la conversazione sul tema la scrittura narrativa per la promozione dei beni culturali per riflettere sulle potenzialità della narrazione nella conoscenza del patrimonio culturale del nostro paese in programma venerdì 16 alle 11 presso lo stand del Parco Nazionale Cilento Valo di Diano e Alburni che vedrà gli interventi del Presidente del Parco Tommaso Pollegrino Pietro Cusati giornalista e membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi e Ricerche Valo di Diano Pietro Laveglia Aldio Bianchini direttore del quotidianodisalerno.it e le riflessioni di Emilio Sardi autore di scritture archeomiteologiche Andiamo ora a Monte San Giacomo dove domenica scorsa in località Vallicelli l'associazione Grotta Briganti e Cacio ha presentato la Pera Lardara con l'evento dedicato al frutto che l'associazione qualifica come la Regina del Cervati si sono chiusi gli eventi dell'edizione 2018 Domenica scorsa in località Vallicelli a Monte San Giacomo l'associazione Grotta Briganti e Cacio ha presentato con un evento dedicato la Pera Lardara un frutto autottono autunnale che come pochi altri caratterizza i luoghi ai piedi del Cervati intrecciandosi con la storia millenaria che le accompagna e la tradizione gastronomica locale la Pera di colore marrone scuro è un frutto che cresce spontaneo le condizioni pedoclimatiche rendono i terreni montani di Monte San Giacomo l'unico habitat in cui l'albero porta a maturazione i propri frutti che nel periodo settembre-ottobre si raccolgono manualmente vengono poi distesi su spianate e tenuti in soffitta quando risultano morbidi al tatto vengono riposti in contenitori ricolmi d'acqua ed è possibile conservarli così per lunghissimi periodi il suo particolare sapore e la consistenza carnosa hanno fatto sì che la Pera Lardara si prestasse ad una delle pochissime ricette agrodolci della Campania la tradizionale insalata con peperoni sott'aceto olive e acciughe utilizzata soprattutto nel periodo in cui la religione richiede l'assenzione dal consumo di carne queste grossomodo le caratteristiche di un frutto che esprime insieme ad altri prodotti tipici locali tutto il potenziale dei luoghi che li custodiscono e che l'associazione Grotta Briganti che Caccio sta divulgando da ormai cinque anni per le sue caratteristiche peculiari la Pera Lardara ha catturato l'attenzione degli scienziati domenica mattina dopo le escursioni tra le radure alla ricerca dei peri selvatici presso la casa del Peraino con un seminario curato dal professor Gianluigi Mauriello microbiologo dell'Università Federico II di Napoli ne sono state illustrate le proprietà chimico-fisiche un prodotto tipico con alle spalle secoli di storia e tradizione non poteva lasciare indifferente l'associazione Slow Food presentata domenica da Patrizia Spigno responsabile dei presidi campane e basilicata che ha affrontato il tema della salvaguardia dell'agrobiodiversità poi è arrivato il momento della degustazione durante il quale domenica è stato possibile sperimentare tutti i possibili accostamenti culinari a cui la Pera Lardara si presta grazie alla sua versatilità e alla fantasia dello chef Luciano Petrizzo che ha saputo esaltarne le caratteristiche accostandola sapientemente ad altri sapori con la Pera Lardara si sono chiusi gli eventi 2018 di Grotta Briganti e Cacio i ragazzi sono già al lavoro per la prossima edizione intanto dicono ringraziamo tutti coloro che con la propria copiosa partecipazione ad ogni evento hanno rafforzato la nostra determinazione a proseguire nei progetti dell'associazione e termina qui il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti